Niente sconti se non le cautele dovute perché i protagonisti sono tutti minorenni, ma le immagini della maxi-rissa che ha coinvolto una ventina di giovanissimi a Salerno hanno fatto il Giro d'Italia e la risposta delle istituzioni non si è fatta attendere, come spiega il questore Maurizio Ficarra. Questi episodi ovviamente ci allarmano un poco, soprattutto per l'età dei partecipanti a questa rissa, che sono la maggior parte tutti minorenni. Noi abbiamo quasi identificato tutti i componenti della rissa, abbiamo ricostruito ovviamente le ragioni che sono quelle ordinarie di questi ragazzi, uno sguarda a una ragazza, un insulto, una parola e poi succede questo che succede. Noi stiamo tenendo gli occhi aperti naturalmente e faremo, rinforzeremo ancora di più i servizi nel fine settimana, proprio nei luoghi di aggregazione dei giovani. Non solo repressione necessario, ha aggiunto Ficarra, anche l'azione educativa di famiglie e associazioni, perché il messaggio che deve arrivare è chiaro. Insomma, cercare di far capire a questi ragazzi che non solo è veramente una cosa odiosa e disdicevole il ricorso alla violenza, ma che può essere anche per loro un problema, perché noi adesso che li abbiamo identificati, li denunceremo a tutti e di questi procedimenti penali rimarranno le tracce anche sulla loro vita futura. Non solo la rissa, sotto i riflettori della questura, anche il traffico di droga al porto di Salerno, dove sono stati sequestrati 65 chili di cocaina purissima per un valore di 3 milioni di euro. Salerno, e non è la prima volta che ce ne accorgiamo, è proprio una via d'ingresso per il centro-sud per quanto riguarda gli stupefacenti, ma noi stiamo sul pezzo e l'esempio è proprio la dimostrazione del ritrovamento di ieri.